Alfonso Guarino, atleto dell'Aurang Group di Andria, si è laureato campione del mondo di taekwondo nella categoria Primo Dan Junior over 75 kg. A Londra, sede dei mondiali ITF e taekwondo, il giovane andriese ha trionfato nella finale della competizione ridata, battendo un avversario argentino per KO. Nelle due precedenti gare invece ha superato un inglese ed un zbeco. Ottimo mondiale, anche per l'altro andriese, Michele Lomuscio, che deve arrendersi ai quarti di finale a causa dell'infortunio alla caviglia. Dopo aver battuto un americano, Lomuscio ha dovuto arrendersi all'avversario del Turkistan dopo una gara coraggiosa nonostante il pesante handicap. Una soddisfazione immensa per il giovane Guarino, che in Inghilterra è salito sul gradino più alto del podio, festeggiando sulle note dell'inno di Mameli.